acquistare europeo acquistare sostenibile e lo slogan del forum compraverde by green 2024 la ragione è semplice mentre stati uniti e cina finanziano la transizione ecologica con centinaia di miliardi l'unione europea è ancora in dubbio su come farlo attraverso gli appalti pubblici è fondamentale che tutti gli appalti strategici per i settori strategici siano orientati alla sostenibilità venire al forum significa comprendere bene come le politiche per la decarbonizzazione dell'economia per l'economia circolare e per la biodiversità abbiano una strumento fondamentale nel green public procurement venire al forum significa anche conoscere le norme quelle regionali quelle nazionali quelle europee che facilitano la diffusione dello strumento del green public procurement e dei criteri ambientali minimi venire al forum significa anche partecipare ad una comunità di pratica venire in contatto con le esperienze virtuose ed avere rapporti con tutti coloro che in italia si stanno impegnando per l'adozione di politiche di sostenibilità negli acquisti della pubblica amministrazione